YouTube mi vuole proprio bene. Ora se andiamo su YouTube e cerchiamo Bitcoin, lui decide di mettermi in prima posizione e ci può anche stare. Per carità questa è una classifica che cambia in continuazione non solo giorno dopo giorno ma ora dopo ora. Ma se cerchiamo anche blockchain YouTube mi mette in prima posizione. Ora ho scoperto che se cerchiamo criptovalute YouTube mi mette in seconda e in terza posizione e anche se cerchiamo criptovaluta lui mi mette appena appena sotto. Quindi in poche parole mi sta piazzando ovunque per le query principali di questo settore. Oggi addirittura mi prende anche per ricerche con termini inglesi come exchange in cui mi mette in quarta posizione e anche lightning network in cui mi mette un pochettino più in basso. Non è facile entrare in queste query in inglese con dei contenuti in italiano. Vedete qua l'unico italiano sono io. A dire il vero non ho ancora capito di preciso perché i miei video a YouTube piacciono così tanto. probabilmente c'entra qualcosa il watch time cioè il tempo che gli spettatori passano sui miei video perché è il parametro principale che usa YouTube. In effetti sembra che il watch time dei miei video e del mio canale sia buono quindi credo che sia quello il motivo principale. Comunque sia colgo l'occasione per ringraziare YouTube perché in effetti essere posizionato così bene per queste query mi porta parecchie visualizzazioni. Poi però in realtà non credo che quelli di YouTube guardino questo video quindi questi ringraziamenti cadranno nel vuoto però insomma io in qualche modo mi sento di doverli fare perché mi sta veramente premiando e mi sta dando una grossa mano ad arrivare ad un pubblico sempre più ampio. Ah ovviamente stiamo parlando di YouTube Italia cioè della versione in italiano di YouTube. Chi di voi dovesse avere YouTube in inglese molto probabilmente non mi vedrà perché vedrà solo video in inglese e non video in italiano. Tra l'altro colgo l'occasione per farmi notare una cosa non so quanti di voi lo sanno. Se cercate Marco Cavicchioli e finite sul mio canale, se andate su playlist io ho carico continuamente dei video in queste playlist. Sono playlist aggiornate che vi consentono di seguire verticalmente degli argomenti. In particolare le lezioni di Bitcoin sono i video dedicati a chi vuole proprio imparare. Bitcoin Italia o tutto sul Bitcoin sono dedicati in generale a Bitcoin. Tutto sulle criptovalute sono i video sulle criptovalute. Ci sono anche quelli specifici per la blockchain, le notizie e poi anche altri tipo quelli per il mining, la serie dei cripto youtuber italiani, investire in Bitcoin eccetera eccetera eccetera. Infine se andate su informazioni se volete c'è il mio indirizzo email a cui potete contattarmi. Un saluto, ciao! Grazie! Grazie! Grazie!